Allora, Leonardo Ortolani, Leo, che sono i miei amici di Rathman, che è un buon mettiere, come amano a finirsi, ma è anche un grande amante di cinema. Infatti siamo qui per parlare di cinema, esattamente cinema, il buio in sala, in cui Leo ha raccolto tutte le varie recensioni che ha pubblicato sul suo blog e finalmente per tutti gli amanti del cinema, di Leo Ortolani, l'abbiamo potuta leggere in cartaceo. Allora, la prima domanda che mi viene è che il cinema e il fumetto sono due mezzi di comunicazione che lavorano per immagine e quindi c'è chi definisce il cinema come un fumetto in movimento e chi definisce un fumetto come un cinema bloccato. Tu, di queste due definizioni, cosa ne pensi? Allora, riprendiamo la pallottoliana che è il cinema e il cinema, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa. Questo no, cioè, è inutile che c'è, allora il cinema sono libri che però ti fa vedere cosa succede, oppure sono quadri che si muovono, oppure è musica che però ce l'ho anche le figlie, quindi non ha molto senso secondo me cercare di trovare delle cose a contatto. Ovviamente si racconta storia, l'unica cosa che cambia di contatto è il fatto che si racconta storia e basta. In più, adesso il cinema, soprattutto per quanto riguarda il cinema di un certo tipo, quello o da blockbuster, sta attingendo moltissimo al fumetto, per cui il fumetto sostanzialmente è caverna di anni va bando per i nuovi produttori di film, i cinema. Però si parla in questo caso di produttori americani, le major, ma anche in Italia, purtroppo, c'è una quasi inesistente abitudine a trasformare il fumetto in cinema o a trasformare il cinema come è un fumetto, come è successo con alcune di graphic novel stranieri. Come mai, secondo te, in Italia c'è questa ignoranza, direi, dei produttori, fra una cosa del genere? Ma, da una parte, anche perché, allora, in solito bisogna tenere conto che creare un fumetto ha dei costi molto, ci vediamo, molto limitati, quindi ha anche la possibilità di recuperare i costi che è abbastanza facile, insomma, nel momento in cui tu proprio non fai qualcosa di vendimento. Per il cinema tu hai alle spalle tutta una serie di esigenze di tipo proprio produttivo, economico, per cui se devi fare un film, il produttore bisogna che il film poi dopo rientri e vede le specifiche, come il film, come il film, che guadagna anche il film. Quindi fare film su prodotti, diciamo così, a fumetti italiani, conosciuti solo da una parte relativamente piccola, italiana, con grandi cifre, però possiamo arrivare ad essere conosciuti da 400 di una persona, magari. Adesso non sto parlando di essere conosciuti perché tu sai che esiste, tipo Alberto, faccio dire, sai che esiste Coppolino, però lo legge, no, però sai che esiste. Non è la stessa cosa. Allora, tu devi portare la gente al cinema, preferisci puntare su storie inedite, su storie che abbiano, a quello che si vuole il produttore, un acquì giusto per portare la gente al cinema e quindi io devo dire dal mio punto di vista personale, ma meglio così, nel senso che comunque ci sono delle storie nuove, ecco, ci sono storie magari prese dal fumetto, rimasticate male, come succede a volte con gli americani, poi portare il cinema, tu sai già che comunque offri un personaggio molto forte, come succede in tutto il mondo, che tirerà su un pubblico da tutte le parti, quindi rientrai molto velocemente delle spese e non solo, arriverai anche a fare degli incassi. Voi la ragione perché qui in Italia non si fanno film tratti da fumetti, secondariamente anche perché mancherebbero probabilmente anche per determinati fumetti le capacità tecnologiche, cioè nel senso che se dovessi fare un film di supereroi o facciamo, lo chiamavano un girobo che però ha una, o un ragazzo invisibile, che hanno diciamo così una serie di effetti speciali che sono relativamente contenuti con i costi e poi comunque ti costa moltissimo perché il film soffre magari da altre parti, quando in realtà con 100 milioni di dollari in America ti facevano i vecchi 44, per verità il film non ha un gran film, però gli effetti comunque c'erano, i santi erano fuori, per cui è curioso, io so, forse un film tratto della terra dei figli potrebbe essere interessante, però è talmente vero il libro che non lo so. Altra domanda, io so che tu hai visto, se non mi sbaglio, 12 volte The Bruce Brothers, home music, quindi la domanda è, in preferito, Bruce Brothers, se non altro, dovessi fare una monocarodia cinematografica, che ne parte tantissime, tutte, una più bella età, da sui miei numerati a Allen, i grandi ragazzi? Cosa fare? Ma io avevo da parte 50 assumatori di giallo, ma poi l'ho lasciato un po' lì da una parte, perché a volte anche soltanto la bellezza dell'assurdità di un film ti può spingere a creare una parodia, magari a ottenere una storia nuova, prendendo alcuni elementi da quello originale, portando, per cui anche il fatto magari di vedere un film tante volte non vuol dire, anzi io sbaglio se non lo toccherai mai come parodia, perché almeno è già perfetto così, quindi non credo che farei mai una parodia, farei magari dei personaggi vestiti di l'altro, una vignetta, per una parodia un po' eccessiva. Quindi mi ha poi una domanda scomoda, quindi tu ora mi hai detto che non ti ringrazieresti Bruce Brothers perché per te è un film perfetto, quindi quando tu fai una parodia è perché tu vuoi abbellire il film? No, di solito quando faccio una parodia è perché, che c'è il film, però forse vedo la possibilità di fare qualcosa di diverso, usando gli stessi elementi, e quindi mi diverto, perché magari è qualcosa che mi interessa, come ad esempio quando ho fatto la parodia di 300 e conoscevo già il fumetto di Miller, in quel momento mi interessa provare a livello stilistico di realizzare una storia di fumetti con lo stesso stile di Miller, cioè limitandolo ovviamente, e con tempo fare anche quella che potrebbe essere una mia visione delle termopoli di quello che era successo, e sembra che si l'abbia fatto, per cui mi porto fuori questo 299 più 1 che tra l'altro fa origine tra l'altro da un disegno che ho fatto per un mio amico Alain che mi aveva fatto leggere il punto 300, per ringraziare questi disegni in cui c'è questo spartanino che sta correndo gli aspettati, e quindi si è scritto la 299 più 1, e questo si parla del 2000, di cui molti anni prima che uscisse il team e che uscisse la parodia, quindi da lì ricordandomi questa cosa poi ho fatto la parodia. La domanda altra che mi viene in mente è come hai avuto il contatto con la BAU, ti hanno contattato loro per fare questo link di carodie, o sei stato tu a convincerli a pubblicatemi? Guarda, allora, con BAU, a parte che con Michele Foschini si conosceva da vent'anni, per cui mi sono conosco tutte le sue vicende professionali precedenti, sono sempre stato veramente in gamba, e quando è nata la BAU mi ricordo che mi chiese, guarda, se hai dei progetti magari a volte che ti interessa portare da noi, possiamo fare in genere, e questa cosa si è concubilizzata poi cinque anni dopo, e ho pensato che in effetti come casitrice per portare un prodotto in libreria fossero assolutamente la numero uno, e quindi mi sono rivolta a loro, cosa tanta, diciamo che ha dato un po' molto tranquillamente. Io ho proprio un'ultimissima domanda, tra queste che tu hai scritto, tra tutte le parodie che tu sono qua dentro, qual è la tua preferita? La mia preferita? Ma non lo so, perché ognuna di loro poi nasce da un momento particolare, cioè se ficesi l'ultima, quella di Olmidi, torneranno i prati, potrebbe essere quella. Però c'è anche tutta l'attesa per i morti in guerra stellare, insomma, che ha generato trailer, teaser, teaser trailer, FIV, e a tesura proprio torneranno i prati stellari, poi chiamati i prati stellari perché deve venire. Ma è stato un caso che l'abbia visto dopo quello, e quindi il vero significato della guerra salta fuori da queste cose qua. A me fa molto ridere che la Disney sono sostanzialmente stia vendendo la guerra ai bambini, cioè è guerre stellari, è divertimento, quindi la guerra è divertente, bambini. Giocate, sparate, ma i cattivi che tanto hanno in casco non si vedono, quindi non si vedano smorfi, non saprai neanche... Non c'è del sangue? Sì, no, ma sono vecchi gag di quelli che... anche con Austin Powers che c'erano i cattivi che festeggiano... Ma non viene, è quello che diceva che il Fanta ragazza è morto, cioè, per cui, quello che la gente speciale uccide con tanta leggerezza in effetti ha una vita, una famiglia, una famiglia l'aspetta, e insomma, pensiamoci un attimo, prima di fare delle guerre stellari, cioè a me va bene che le guerre stellari sia un fenomeno cinematografico successo, insomma, intrattengono, così come i film di guerra hanno sempre fatto per tanti anni, però quello di declinarlo in Rebels, declinarlo in cartoni animati, in cose, dei ragazzini ha qualcosa di sottile, non ci sono pistole, ci sono spade laser, vabbè, non c'è, però, non lo so, mi lascia un po' per presso, sempre di guerra, però, non si vede mai quando muoio. Allora, appartamento Disney. Io direi che abbiamo finito qui, grazie a lei per il fatto che ci hai concesso. Ti vuole? Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao.